Giuseppe Cruciani se ne esce col suo nuovo libro per la nave di Teseo, ovvero sia Coppie, Storie di Desiderio e Trasgressione. Un testo che potrebbe sembrare un po' un puttanatone, perché oggettivamente lui in copertina ce lo potevano evitare. Con la prefazione di Pupo, che non è noto per essere esattamente il verga della storia della letteratura italiana, si esce con un libro fantastico, in cui ci racconta dieci storie che mettono in evidenza tutti i dietro le quinte delle vite di coppia, in cui hanno ampio spazio gradimenti, poligamia, storie di sentimenti andata male, sentimenti recuperati, sesso, tutto ciò che proprio fa parte della vita di coppia, ma di cui spesso e volentieri si ha paura di parlare. È veramente un prontuario per il piacere della vita di coppia. Divertente anche la prefazione di Pupo, disponibile sia in formato ebook, sia cartaceo, e poi Cruciani scrive benissimo.